Buonasera il Presidente della Repubblica, come sapete mi ha fatto l'altissimo onore di conferirmi l'incarico di formare il governo, l'incarico che mi sono riservato di accettare ma che vorrei svolgere con grande spirito di servizio, convinto come sono, essere oggi il problema primo, non soltanto quello di continuare a governare al meglio il Paese, ma anche in una situazione di gravi difficoltà, favorire il più proficuo confronto tra le forze politiche. Appena ho il tempo di pensare a come si svolgono le consultazioni ve lo farò sapere, una cosa posso sinora dirla senza perdite di tempo ma senza nulla rinunciare. Grazie. Se lo aspettava questo incarico?